È un accordo ventilato da centinaio anche sull'accordo tecnico con Renzi, per esempio a guardare un altro governo. Non c'è nessuna ipotesi di governo con Renzi, sono fantastico. No, così mi segui davanti. Dai, te lo tengo io adesso. E' questo? Ma guarda che bel cielo, le nuvole venite solo voi. Io oggi sono in Campania, domani in Puglia, in Basilicata, poi in Abruzzo, nelle Marche. E si vota a fine maggio. Troveremo l'accordo, senza problemi.